Si va agli ordini dello starter, nel frattempo partiti con il bilante Peron, Torvaldo prova a andare in vantaggio superando Alzefra che ha vicino alla corda Alamir, nel frattempo Alzefra va su Torvaldo ed è il leggero vantaggio sull'avversario, poi Basciolo Alamir che hanno all'esterno Patapunfete, questo il quintetto precede Peron e Roman Place, sulla curva Alzefra in vantaggio su Torvaldo che ha all'esterno Alamir, poi Patapunfete all'esterno di Basciolo, quando si sta entrando addirittura, poi Peron e Roman Place, addirittura Alzefra, Torvaldo Alamir, con Alamir che va su Alzefra, poi Basciolo, Torvaldo, Patapunfete, Peron e Roman Place, Alamir agguanta Alzefra a metà retta, gli dà il primo attacco, Alzefra prova a reagire con Alamir che lo attacca ma al momento non passa, allora prova ancora a reagire Battistrada Alzefra, alla fine però Alamir prende leggero vantaggio a Alzefra, Alamir, Alzefra e per la terza Roman Place, 1-2-6, è l'ordine d'arrivo, vittoria di Alamir, Claudio Colombi per Basem Abdelac e Vincenzo Di Maggio, 1-70 la quota conclusiva del betting, mentre al toto 1-53, 1-2-6, l'ordine d'arrivo in numeri e tutto, linea allo studio e al campo.